Sì, secondo me più che altro le palle native in un campionato sono fondamentali, quindi riuscire poi a farle bene, essere concreti può portare grossi benefici. Sicuramente i nuovi ragazzi che sono arrivati sono tutti ragazzi importanti e giocatori ottimi. Stiamo costruendo un ottimo gruppo, chiaramente ancora siamo all'inizio, ma cercheremo di essere coesi e di creare un'ottima squadra per arrivare a un grosso obiettivo. Stiamo facendo degli ottimi lavori e soprattutto in campo stiamo dando delle ottime risposte, secondo me, quindi stiamo facendo un ottimo ritiro. Le sensazioni, adesso penso sia ancora presto perché comunque è da una settimana che lavoriamo, però le sensazioni sono ottime queste due amichevole, anche se con squadre di basso livello, però il gioco è fluido e stiamo trovando i nostri tempi di giocata. Quindi le sensazioni sono positive, chiaramente ancora è presto, però come dicevo prima stiamo costruendo qualcosa di importante. Grazie a tutti!